Ciao, siete su Scalping the Bull, video di analisi tecnica, quindi mille like per il prossimo video e finalmente mi trasferisco in una casa nuova quindi dovrei riuscire poi dalla prossima settimana a fare qualche video in più comunque ci siamo, vediamo cosa sta facendo Bitcoin che in questo momento qua sta crollando, vedete bellissimo crollo, time frame un minuto, perché? Perché nel daily, avete visto, sta facendo la rottura dell'EMA10 soprattutto dopo la finta di ieri, quindi analisi tecnica andiamo a vedere tutto dopo la sigla la bellezza dell'analisi tecnica e dei mille like sta proprio nel fatto di capire i ragionamenti di ogni candela quindi ci eravamo lasciati con questo livello se non sbaglio era nel mensile no, era nel settimanale, sì ecco, era nel settimanale l'EMA60, non ci siamo arrivati nonostante abbia fatto qualche spike sopra, vediamo nel mensile ormai c'eravamo l'EMA10 perfezione, ha fatto qualche spike ma sta tornando giù stiamo per chiudere il mese, quindi chiusura sopra è sempre stata una cosa molto positiva, non lo faceva da tanti mesi ma sembrerebbe, sembrerebbe oggi il 23 che non ce la possa fare, vediamo, vediamo, vediamo ci è abituato a fare anche tante finte, però andando a vedere nel daily, l'EMA10 che comandava questo secondo rialzo e niente, ieri ha fatto la finta, ha chiuso sopra, quindi oggi doveva per forza andare a fare la sua bella accelerazione invece niente, sta chiudendo sotto, rischio di chiudere sotto perché adesso sta facendo proprio una bella accelerazione con molto pericolo, appunto, trigger i minimi di ieri, quindi tenere d'occhio se fate trading fate molta attenzione quindi, niente, stiamo perdendo un po' con bitcoin, calcolando che nel mondo azionario abbiamo oggi deve ancora aprire, però queste sono praticamente la preapertura 0 più 0,2%, però niente, qua c'è il nostro mostro che sta richiamando, avete visto, ha fatto una bella discesa il Nasdaq, però abbiamo ancora l'EMA50 che fa da ultimo supporto, ok? Ovviamente cerchiamo di capire quali sono i nessi, ah, vi leggo un attimino Coinbase, che Coinbase essendo quotato al Nasdaq ci deve dire quali sono i dati e i dati ci dicono che Coinbase nel Q4 ha perso ricavi del meno 75%, ragazzi, meno 75%, praticamente non ha ricavi, ha perso tutti i ricavi gravissima questa cosa qua, però, dopo andiamo a vedere graficamente come ha messo Coinbase per farvi capire la situazione, allora, come vi ho spiegato, per capire la geopolitica la guerra l'abbiamo risolto? No, addirittura è peggio, ok? Se state seguendo siamo messi veramente peggio addirittura Poi, anche fra l'altro il crollo del Nasdaq, bene o male, è il... che giorno è stato qua? No, il 16, 17, 21, vabbè, comunque... rientra nello Shimano, l'EMA50 che fa il supporto, ma vi ricordo che appunto con la guerra non solo non l'abbiamo risolto, ma appunto sta peggiorando L'altro è il solito esempio che vi faccio, i tassi sono aumentati per togliervi i soldi dalle tasche, ok? Quindi tutto quello che dovete prendere in prestito costa di più Se avevate un mutuo a tasso variabile vi costa moltissimo di più Se adesso andate a comprare un'auto, andate a comprare una casa, eccetera, eccetera costa tutto molto di più Andate al bar, andate al ristorante, costa tutto molto di più L'inflazione va mangiato tutto, ok? Quindi, avete più soldi per fare girare l'economia o meno soldi? Ovviamente avete meno soldi Il disastro di avere i tassi di interesse così alti, così velocemente, li devemo ancora vedere Quindi non gasatevi, ve lo sto dicendo da tanto Fate attenzione, perché se voi in tasca avete meno soldi, anche gli altri hanno meno soldi E se tante persone hanno meno soldi perché i tassi sono aumentati, girerà meno l'economia, ok? Quindi non dovete avere fretta di entrare, con calma ragioniamo, ok? Già che ha fatto questo bellissimo rimbalzo, fantastico Se andiamo a vedere già il settimanale, di questo si tratta Abbiamo visto altre volte, questo è il Nasdaq, ha rotto l'EMA 50 più volte Adesso stiamo già tornando giù E vediamo se il nostro mostro andrà ad inghiottire questo ennesimo rimbalzo Il mondo cripto è nato di più Ha fatto un bellissimo rimbalzo anche al mondo cripto Però vediamo per adesso appunto nel settimanale Siamo all'interno dello Shimano Vediamo che succede nel daily, abbiamo già visto questo contesto Detto ciò, andiamo a vedere Se troviamo qualcosa di interessante Che troviamo sempre, c'è sempre qualche conformazione Quindi noi ce ne sbattiamo di qualsiasi cosa perché ci muoviamo grazie alle conformazioni Qua sui tirion possiamo togliere tutto E nel daily, niente Già ieri aveva fatto chiusura sotto l'EMA 10 Ma addirittura era andato quasi a 223 Quindi più debole BNB Ah, ieri ha fatto la bella candela tenuta Però oggi niente, quindi anche qua stiamo perdendo Attenzione qua perché ha già fatto l'incrocio Quindi dovesse tornare sotto l'incrocio Malissimo, quindi questo lo spostiamo Non deve chiudere sotto la 223 Cro ha fatto la sua bella finta Tornati indietro Questo era un bad, segnalato L'ha fatto, quanto è questo? Pagava o non pagava? Questo è stato segnalato nell'ultimo video di analisi tecnica Andatelo a vedere, 1000 like, 11% Niente male Incassiamo, scappiamo, ok? Perché sappiamo che non è il momento FTX Anche qua ha fatto l'accelerazione Ma tutte finte Adesso butta Abbiamo un livello importante come short Attenzione a questo livello short Sol Bellissimo livello che ha fatto lo sputino Tornati indietro Vediamo Rimane questo un ottimo livello comunque Etc Anzioniamo, troppe linee Non abbiamo più niente Ah, siamo dentro lo Shimano Siamo dentro lo Shimano E allora Se si dovesse avvicinare lo Shimano In uscita qua Va bene Se si dovesse avvicinare al Invece l'uscita dello Shimano Quindi qua, molto male Ok? Quindi vediamo Per adesso è in mezzo Quindi non si fa nulla MDX Dentro Shimano Cancelliamo tutta sta roba Ah, vediamo i fan token Niente Qua ci stiamo preparando Per un ottimo short Ah, tutti, tutti, tutti messi male Niente Speravamo almeno in quel Infantocchio Comunque oggi è giovedì Quindi nei weekend si potrebbero risvegliare All'ultimo Vediamo Comunque zero conformazioni Ecco L'unico che rimane un po' interessante Che è questo qua? S Roma Eventualmente Oggi Dai, andiamo Cerchiamo qualche conformazione Questa l'ha già fatta La sua bella rottura Cancelliamo tutto Non ci serve più Ah, questa era Alpine Comunque l'EMA10 Sta tenendo E sta facendo tutte Tutti i massimi più alti Quindi effettivamente Basta superare il massimo Domani Superare i massimi di oggi E con Alpine Tra l'altro ha presentato Una macchina Molto interessante Vedremo Qua non ho niente Vogliamo conformazioni Se non troviamo niente Dopo andiamo a vedere Bullbot Che Bullbot ci regala Sempre qualcosa di interessante Uh, ANC Ah, ma ANC È quello che va verso Delisting Se non sbaglio Anche Mir UCG Cosa sta facendo? Ah, si sta avvicinando Ai nuovi massimi Di giornata Ma per oggi Basta Devo tornare Di nuovo Alla casa nuova Mille lavori Veramente Moducinano Cambierò più casa Per vent'anni Ragazzi Ve lo prometto Luna Niente Però abbiamo Un livello interessante Bad Già segnalato Ma qua In realtà È molto più interessante Il livello short Luna Pure Ci avviciniamo A dei livelli Pericolosissimi STC Questo in realtà È bello per un rimbalzo È bello per un rimbalzo Vediamo E gold Ah Questo era il livello Di bad Di rottura Di matic Ha fatto la sua rottura Chiusura candela Sotto il bad Ovviamente È ottimo livello Per andare short Quindi Attenzione Attenzione Jasmine Il bad È ancora intatto Quindi sopra Ce l'abbiamo Bell Anche one Siamo lontani Stanno tutti ritracciando Qua c'è un ottimo livello Abbiamo tante candele Sullo stesso livello Interessante Che è a gala Send Qua andiamo di tracime Cos'è questo? FTM Quindi ci aspettiamo magari Una terza cima Aspettiamo ancora presto Dot Abbiamo bad Nei bad Ah no Cos'era questa qua Cvp Attenzione Come è interessante Perché è andato sul supporto All'emma 10 Sì Interessante Poi massimi Sempre più bassi Quindi basta superare Un massimo precedente Quindi se domani Superi Eh bello Vito Quando sono i massimi Sempre minori Basta superare Un massimo del giorno prima Che rischiamo di fare Un bel trigger Ah Shiba Dai Shiba Sì Però Per adesso Non ho ancora trovato Niente di particolarmente Convincente Di immediato Niente di immediato Kp3r Che ha fatto Su bel rialzo Peccato Questo me lo sono perso Mtc Ah questo cos'è Gmt Mask Niente ragazzi Io non trovo Non sto trovando Niente Quindi andiamo Veloci Mob Mob resiste Ecco Mob sta tenendo Mob sta tenendo Ieri ha fatto la finta Oggi sta facendo Quello che avrebbe voluto Fare Bitcoin Quindi sulla finta Poi ha fatto L'accelerazione Quindi resta buono LRC GFT Interessante Abbiamo un livello Molto interessante Per romperla 10 Ma sembra Che voglio andare A fare nuovi minimi GFT Pure Massimi di oggi Interessantissimi Assolutamente Controtrend E niente Bitcoin Allora non ho trovato niente Andiamo a vedere un attimino Su Discord Quindi cosa mi dà Andiamo a vedere FOMO Allora FOMO Alfa 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 Molto interessante Quando è arrivato questo segnale Aspetta 9.40 Mi sa che è già tardi Questo è il daily Di fare un break out Decisamente interessante Siamo a controtrende Quindi alfa Assolutamente Grande Grande bull bot Vediamo Dodo Vedete se l'ha già scoppiato Sì Ha già superato Questa è la tre cime Ha già superato il massimo Di precedente Quindi Vedete avere il segnale In anticipo In orario Sarebbe stato buono Ha già fatto la sua rottura Però come daily Rimane interessante Perché appunto Ha rotto Eni Ecco Vabbè Arrivano a mille segnali Di stamattina Eni che è uscito fuori Con i dati Comunque rimane interessante Molto Mi piace molto questo Quindi tenetelo d'occhio Vediamo 30 minuti Se abbiamo qualche conformazione Ok Livello Senza guardare il book Già il 25 Può essere il 200 Ok Guardiamo Forse a un'ora Va a fare rimbalza a un'ora Vediamo Dov'è rima 10 Sì Rimbalza rima 10 Perfetto Time frame 5 minuti Siamo fuori Ecco Potrebbe addirittura Andare A testare la 223 Comunque ottimo Questo sta per andare a fare Rimbalza Tenetelo d'occhio Ok Così abbiamo due Anche dodo Vediamo se ci regala Qualc'altra perla Sempre di oggi AMP Ah AMP Un altro nuovo Sì interessante Perché va verso La 223 Sì E non ha ancora rotto il massimo Ok Questo sicuramente È interessante Molto infomo Molto infomo Ecco Questo è trigger Quindi magari Riserva e mail Non ci andassi oggi Bello 30 minuti Abbiamo già Un tocco Due tocchi E ne ha verso il terzo tocco Ragazzi Questo è molto interessante Oh dai Sono contento Uno Con una conformazione Ce l'abbiamo già Ne ha verso il terzo tocco Per un daily Per un daily Veramente Allucinante Abbiamo spazio Poi fino Abbiamo spazio Poi fino Allo 223 Che è l'11% Ok Questo è molto interessante AMP Aspetta che lo aggiungo AMP Crypto Crypto Ok Bene Possiamo passare ad altro Quindi andiamo Al mercato azionario Vediamo il mostro Qua Che sta aspettando Vi sta aspettando il mostro Io non l'ho cancellato Vediamo Quando la gente Ha finito i soldi Di indebitarsi Gli americani Avete finito di indebitarvi Con le carte su carte Chi Avete finito Di utilizzare I vostri risparmi Per quanto è quella d'Italia Che comunque Siamo meno indebitati Ma comunque Tutto è aumentato Quindi il potere d'acquisto Adios Allora andiamo a vedere Dai Nasdaq Allora andiamo a vedere Standard & Poor's Ah Messo peggio Siamo già sotto All'incrocio Vedete appena fatto L'incrocio Fra l'altro Era un incrocio importante Non lo faceva da tanto E siamo già sotto Quindi malissimo La Germania Ha rischiato Di chiusura candela Questo è un livello di breakout Non deve più fare Chiusura candela sotto Quindi questo livello Rimane sempre molto importante Piazza Fari Tre giorni di discesa Indovinate perché Chi è crollato Chi ha fatto fare questo rialzo Le banche Dopo andremo a vedere Quanto sono crollate le banche Con Come sempre il Viagra Questa è la Russia Che ha fatto una bella finta Due giorni Già tanto sopra Quindi questo Insomma è una bella finta In teoria Questo dovrebbe andare a rompere L'EMA10 Quindi mettiamo EMA10 E andiamo addirittura A rimbalzare Finta è sempre molto potente Uh L'India Ha fatto la finta È tornato su Quindi questo ha fatto la rottura È andato su Poi di nuovo Giù E quindi qua Sembra la volta buona Euro Euro Dollaro Ecco Ve ho detto Attenzione A Lema 50 Ha rotto E adesso abbiamo Il target Della 223 Euro Sterlina Ecco Dollaro Sterlina Ci stiamo arrivando Dollaro Staliano Anche qua Stiamo arrivando a livello Sarebbe poi un terzo tocco Molto interessante 1 2 3 Eccoci qua Tesa San Paolo Rotto l'EMA10 Accelerazione di basso Guardate Unicredit Finalmente Finalmente Ha rotto L'EMA5 Ha fatto Ha rotto Sobad Accelerazione Chiusura sotto Il livello di rottura Grandissima accelerazione Con rottura Anche la 10 Vi ricordavo Vi spiegavo Che quando comanda L'EMA5 Poi quando tende Quando chiude candela sotto Tende a non tenere Anche l'EMA10 Ok Così ha fatto E così ha portato giù L'indice Di piazza affari Perché si Ha incassato Un sacco di soldi Grazie all'aumento Dei mutui Ma a un certo punto La gente Non potrà 1 Pagare il mutuo Quindi ci saranno Delle persone Che non potranno Pagare il mutuo 2 Chi è che compra una casa Oggi Chi è che oggi Un folle Quindi dopo avranno Meno richieste Quindi andrà a incidere Nei conti Insomma È un casino Quindi Mi avete festeggiato Fatto il suo bel rialzo A posto Ecco un altro Questo è Stellantis Ragazzi Ieri è uscito fuori I candidati Impressionanti Le macchine elettriche Di Stellantis Sono cresciute Del 40% Ha annunciato Un mega buyback Addirittura danno soldi Vogliono dividere I soldi in più Degli utili Con i dipendenti Di tutto il mondo Ragazzi Fantastico E se ne va To the moon Ovviamente Non c'è tanto da festeggiare Cioè su questi dati Del 2022 Ok Ma il futuro Ragazzi fate attenzione Perché ci sono meno soldi Ci sono anche meno soldi Per le macchine Vi ricordo Per comprare una macchina Se lo comprate a rate Il tasso di interesse È salito Ok Poi è vero Che loro ci giocano Un po' con gli sconti Quindi magari possono avere Un tasso abbastanza Anche agevolato Al posto di farvi lo sconto Però Insomma La gente ha meno soldi Se ha meno soldi Ha meno soldi Anche per le macchine Però Mi ha fatto piacere Perché comunque Assolutamente Ottimi dati Di Terstellantis Adesso è troppo Dritto per dritto Quindi Ema 5 Che comanda Cosa vi ricorda? Fineco Sta corollando Eccoci qua IWG Che è andato Finalmente A testare L'EMA 10 Ieri la ruota È tornata su Io farei attenzione Perché questo Se vuole andare a rimbalzare Questo è il punto giusto Quindi Io terrei Come Trigger I massimi di ieri E poi questo Dopo può andare a fare Veramente Un bel rialzo Saipem Oh Abbiamo Un altro Livello Un bel Bad che si è formato Molto interessante Questo Teniamolo d'occhio Vediamo se vuole andare a rompere Lo Shimano Monte di Paschi E' andato a testare Anche il corollato Andato a testare L'EMA 10 Anche qua Tenetelo d'occhio Perché è molto potente Ultimamente E guardate dove è lontano Quanto è lontano 223 Ragazzi Qua viene da Crolli epici C'è il 106% Quindi insomma Teniamolo d'occhio Telecom STM Torna interessante Dopotutto Sto Viagra Rompe Giustamente Accelera Chiusura Candela sopra Ragazzi Questo torna Interessante Incredibile P.P.E. Ah Se l'ha mangiato tutto Quindi malissimo E' stato bellissimo Il rialzo La settimana scorsa Che avevo segnalato Molto bello Questo rialzo qua 7% Bellissimo Perfezione Bud Bud Dentro un bud Realizzando un terzo tocco Ragazzi Questo è lo spettacolo Adesso Ci stiamo mettendo Benissimo Vediamo andare a crollare Ok Adesso è un po' troppo Dritto per dritto Però oggi Questa candelina Mi piace molto Domani Cos'è Già venerdì Candelletta E poi dopo Questa diventa Un bud Al contrario Che è pronto Per lunedì Un bel bud Short Oh Race Dopo le due finte Va per fare I massimi storici Questo sì Niente Contro trend Assolutamente Quindi teniamolo d'occhio Stiamo parlando Di massimi storici Sì Assolutamente Massimi storici Gli ultimi Massimi storici Nel 2001 Novembre 2001 Quindi qua rischiamo Di accelerare All time I Per Ferrari Ragazzi All time I Teniamolo d'occhio All time I Qua mi sa che Devo farlo anch'io Tenaris Niente di che SLS Ah Pirelli Ho visto bene Eh sì Ho visto bene Un doppio tocco Eh sì Eh sì Aspettiamo per il terzo Nexi Prepara Per un bel Terzo tocco Short Monclair Monclair Mamma mia Potenza di Monclair Attenzione Sono un time I No Non sono un time I Però Molto interessante Monclair Teniamo d'occhio anche Monclair Infatti me lo scrivo Monc Ah ce l'avevo già scritto E poi l'altro Che cos'era Ah Race Race E Monclair Assolutamente Speriamo Tengono fino a lunedì In due giorni Farò molto fatica Questo è Fincantieri Che crolla Ok Enel Ha rotto il livello Sta facendo la finta Vediamo se Reggio Non deve chiudere sopra Altrimenti diventa Importante Però l'imbalzo Generali Non c'è niente Questo che cavolo Ah ma questo Ha già fatto Superialzo Niente Il lusso ragazzi È messo benissimo Il lusso Il lusso Vado segnalato Juve Oh Juve sta tornando A quel livello famoso Interessante Mi scrivo anch'io Juve Juve Me lo scrivo anch'io Attenzione Attenzione Il livello Decisamente interessante Tiscali Decisamente Uno schifo totale Questo grafico Rappresenta Quanto Quanta fatica Ho fatto Per riuscire Ad avere Internet in casa Fra l'altro Non ce l'ho Il video che ho mandato ieri È Internet a casa Grazie a Una sim Quindi grazie a una compagnia telefonica Col cellulare Che mi fa Dot spot Che avendo la casa Schermata Con team Faceva schifo Invece sono riuscito a trovare Una casa E una scheda Che mi funziona Abbastanza Per riuscire a far funzionare Casa Bull Spero Ma a fibra Ci sarà Fra 10 giorni Due settimane addirittura Vedremo Comunque Apple 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 Stiamo scendendo Viagra Viagra Ma a 10 Che comanda Chiusura candela Attenzione Poi qua abbiamo Il vero supporto In realtà È l'EMA 50 Tesla Che sta comunque Tenendo Sta tenendo Anche qua Un rialzo mega Livello trigger Rimane Ah sta per Aprire In positivo Livello assolutamente Trigger È questo qua L'EMA 200 Rottura lì Ci possiamo aspettare Un'accelerazione Baba Sì vabbè dai ragazzi Non mi può suonare tutto Non mi può Ah qua era per short Qua era short Un segnale short Su un monte di paschi Sì Vabbè tanto io Oggi non posso fare nulla Cos'è tutta sta roba qua Ah questo è BBB BBB Spettacolo È fra poco Minimi storici Rischia Tipo l'80% 90% Che possa fallire Amazon Dai vediamo Qualche conformazione Google Pelaton Vedete Una finta rottura Dove ci può portare Questa è la Virgin Galactic Adesso stiamo andando Il vero livello è questo Però Insomma Snap Chiusura sotto a 50% Rischiava di andare al suo minimi Pre-apertura e rialzo Meta Dai vediamo qualche conformazione interessante Microsoft Assolutamente interessante Vivian Se dovesse arrivare qua Altrimenti Se abbiamo i nuovi minimi Storici Questo cos'è Lucid Guarda Dove era stato segnalato Manca roba Analisi tecnica Top Adesso sta È su un supporto Per gli ottimisti Abbiamo sicuramente Un livello trigger Che ci potrebbe portare A 200% Però Chiusura candela Qua sotto Qua abbiamo un Bad short Bellissimo Bad short Ah Guarda Sta già aprendo Alla rottura Del bad short Quindi Vabbè Interessante Perché poi dopo Questo potrebbe puntare Poi i minimi Storici Xpeng Fantastico Questo livello Rimane l'ultimo Livello Anche qua Dopo Minimi storici Nio Nio anche qua Nicola Tutte le auto Stanno preparando Per i minimi storici Ford È uscito fuori Con dei brutti dati Da allora La tazzina Si sta ricordando Di lui Con 15 manici Ma si sta ricordando Di lui AMC Che fa il folle Per nessuna conformazione Bellissima Viagra Chiusura sotto Certo Di basso Questo è spot Riot Dai qualcosa Di proprio bello Da dovevi segnalare Micro strategy Moderna Vedete che mi piace tanto Moderna Che deve Morire Per virgolette Basta con questi vaccini Ottimo 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 Hood Abbiamo già una trecima Ah questo abbiamo segnalato L'ultima volta Come mai Perché avevamo L'EMA 200 È nato target L'EMA 60 Cos'è questo qua? Walt Disney Spettacolo Sì Bello 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 Ha già fatto Il suo lavoro Adesso è troppo dritto Per dritto Conformazioni Ragazzi Qua ce l'abbiamo Cos'è questo qua? Beyond 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 Meat Bello Qua abbiamo Un bel livello Beyond Meat Abbiamo un livello Dai Uno Possiamo anche Togliere il rosso Rumble Siamo in mezzo Spettacolo Io spero Ovviamente per la rottura rialzo fino all'EMA200 vediamo comunque sta ancora oscillando quindi rimane buono FDX Airbnb ha fatto la finta ecco qua ha fatto la finta sull'EMA10 dopo rialzo il bellissimo breakout guarda che bello sto livello questo è indicato l'ultima volta stupendo e adesso sta facendo la finta e fra l'altro apre sì dopo la fine vedi qua potremmo avere rimbalze Airbnb Booking Booking invece anche qua ha fatto la sua rottura finta la rottura l'ha fatta Caneva interessante qua è perché ci va a toccare un supporto che è la 50 quindi qua ce lo potremmo aspettare guardate guardate la bellezza di questo BUD ma quanto quanto ha fatto sto BUD qua 135% spettacolare fantastico ragazzi io non vedo l'ora di vedere queste conformazioni quando finirà la crisi ve lo dirò io quando secondo me finirà e dopo aspetteremo questo tipo di conformazioni allora cosa abbiamo adesso abbiamo comunque un livello BUD sopra ma semplicemente già la rottura dell'EMA10 è interessante ok bitcoin continua a scendere questo è petrolio quindi sono azionariato non abbiamo trovato granché comando 1000 like così insomma una casa nuova poi dovrei riuscire a farlo più spesso finalmente avrò più tempo questo è petrolio ah petrolio ottimo verso i minimi benissimo 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 molto benissimo questo è l'argento molto malissimo invece abbiamo BUD short soprattutto la chiusura sotto l'EMA200 male gas ottimo o meno male qua c'era formato un doppio BUD che c'era il rischio l'ultima volta e qui speravo che invece continua a crollare che spettacolo però come al solito da tenere d'occhio perché qua abbiamo l'EMA10 in super viagra quindi rischiamo di fare un rimbalzo importante anche solo fino all'EMA50 quindi gas assolutamente da tenere d'occhio oh questo era COF ah segnalato l'ultima volta ragazzi guardate la bellezza di questa rottura gran segnalazione del caffè stavolta però con formazione abbiamo un BUD short BUD short per il gold ok BUD short per il gold con target la 200 poi basta piazza affari cosa abbiamo questo short e price che non ne vuole sapere però così possiamo abbassare il livello di rottura prima o poi eh o rompe o rompe l'EMA50 o sennò qua ci becchiamo il rimbalzo qua si è vero c'è quel livello lì ma a suo punto abbiamo anche l'EMA200 anche qua sinceramente schifo schifo se l'EMA10 tiene la candelina mi piace piccolina di riposo per poi fare l'imbalzo anche qua possiamo abbassare un possibile ecco qua pad any ah MTV MTV ragazzi io ho un alert non su trading view ma fisico a 55 c'è un bel muro vediamo se c'è ancora no non è enorme però comunque ottimo livello quindi 54 ecco questo questo da tenere qua metto verde questo mi piace assai 55 mi piace assai bene ragazzi finito eh mille like allora per scriversi per far parte della bull family è tutto gratis basta andare e cliccare qua ok trovate tutti i link per far parte della family cliccate solo questi link qua se no ci sono tutti i truffatori che vi scriveranno vi ricordate che io non vi iscriverò mai in privato quindi se qualcuno in privato si iscrive dicendo che sono io o bull o col mio nome vero eccetera non sono io ok è un truffatore che vi vuole fregare quindi andate sul canale youtube cliccate qua o se no sotto ogni mio post sotto ogni video trovate il link del link 3 scouting the bull e entrate solo lì ok ciao ragazzi ciao